Più crediti concede più aiuta l'economia, ma le dico di più, più crediti concede, più profitti fa, più tasse mi paga. Quindi per lo Stato è un'operazione win-win, cioè noi i soldi li prendiamo lo stesso, però diciamo ci sono varie ipotesi per farlo. Però mi faccia dire una cosa, da quando noi abbiamo fatto, qualche mese dopo che abbiamo parato questa tassa, che chiaramente nessuno aveva avuto il coraggio di mettere mano su questo settore, ma per me è di destra anche questo, non guardare in faccia a nessuno quando una cosa è giusta si fa e basta, a oggi i tassi che vengono riconosciuti sui depositi sono aumentati del 50% per le imprese e del 25% per le famiglie e il credito è aumentato, quindi significa che qualcosa di buono anche quello la fa. Va bene, senta, invece diciamo una cosa che è positiva per un liberista milleniano, le privatizzazioni. Io sono uno di quelli che non riesce a capire tutta questa critica nei confronti delle privatizzazioni e temo che poi alla fine però non le farete queste privatizzazioni per 20 miliardi, perché poi è difficile vendere partecipazioni statali. Lei è così convinta che poi un pezzettino di... Allora, bisogna capirsi su che cosa intendo io per privatizzazione, perché diciamo così, per privatizzazione io non intendo tutto quello che abbiamo spesso visto in passato. Per me privatizzazione non è regali miliardari fatti a qualche imprenditore fortunato e amico. Per me privatizzazione significa che lo Stato può indietreggiare dove la sua presenza non è necessaria, mentre lo Stato deve avanzare quando la sua presenza è necessaria. Ok.